Qui a mattinata abbiamo fatto innanzitutto un lavoro importante di difesa del nostro patrimonio, difesa delle falesie, difesa del mare, difesa di un paesaggio bello e fragile senza del quale non c'è turismo e quindi la Regione Puglia ha investito milioni di Euro per la messa in sicurezza delle nostre falesie, si sono conclusi con un investimento di 2 milioni e 900 mila Euro, interventi di messa in sicurezza delle falesie nella zona di Mattinatella, abbiamo stanziato un milione di Euro per le falesie di Baia dei Faraglioni e Baia dei Mergoli, abbiamo stanziato 300 mila Euro per le falesie di Punta Grugno, abbiamo poi fatto un grande investimento qui a mattinata, da 60 anni non vi era nella piana di mattinata, in uno dei luoghi più belli d'Italia non vi era la rete fognaria e quindi questo ha inquinato e inquina anche il nostro mare oltre che avere una dinamica di poca civiltà. Abbiamo investito 5 milioni di 200 mila Euro e nelle prossime settimane si terrà la conferenza dei servizi e ci auguriamo che dopo tutte le pratiche burocratiche e tutti i regolamenti dal prossimo anno possano iniziare i lavori per dare a quella Baia di mattinata la rete fognaria che da tanti anni mancava in questo territorio. Poi abbiamo fatto un pezzo di turismo sportivo, la Puglia Puglia lavora anche nell'ottica di attrarre coloro i quali hanno la passione per lo sport e nel caso di specie per le biciclette, quindi Puglia Bike Destination è un nostro obiettivo e abbiamo fatto qui a mattinata a novembre dello scorso anno un evento sportivo con le mountain bike e poi nel 2022 abbiamo raccolto qui tanti sindaci, a partire dai sindaci del Gargano, ma tanti sindaci della Puglia per stilare e sottoscrivere il patto di mattinata, cioè una intesa fra tanti sindaci per fare in modo che qui ci possa essere un investimento in Puglia sulla bicicletta che muove tutta un'economia e poi mattinata è stata in grado la nuova amministrazione di mettersi in rete con gli altri sindaci del Gargano, esistiamo se stiamo assieme, quindi questo è un aspetto importante, la Regione Puglia su questo lavora per tenere assieme un sistema pugliese garganico che vuole fare un passo in avanti.